Anche Gravini in Puglia si sta preparando per il Carnevale 2017. I carri allegorici sfileranno per le vie cittadine sabato 25 e martedì 28 febbraio, con partenza dalla zona fiera di San Giorgio, per poi giungere in via Spinazzola e percorrere Corso Aldomoro, via Giuseppe Garibaldi, via San Sebastiano, fino ad arrestarsi in corso Vittorio Emanuele. Il tema scelto per quest'anno è il mondo dei cartoni animati. Alla realizzazione dei carri allegorici stanno lavorando sette parrocchie, Madonna delle Grazie, San Francesco, San Domenico, Buon Pastore, Spirito Santo, Santissimo Crucifisso, San Pietro e Paolo. L'ottavo carro, invece, sarà allestito dall'asilo di Santa Cecilia. L'appuntamento domenicale, spiega Don Giovanni Bruno, parroco della Chiesa Madonna delle Grazie, abbiamo deciso di anticiparlo alla giornata di sabato 25 febbraio, per non intralciare la sfida calcistica della FBC Gravina, che domenica giocherà in casa, evitando così il sovrapporsi dei due eventi. Sabato il raduno sarà alle ore 16.30, martedì 28, invece, si partirà alle 14.30 dalla zona fiera. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, il comandante della Municipale, Nicola Cicolecchia, ha emanato un'ordinanza con la quale istituisce il divieto di circolazione e di sosta lungo corso Vittorio Emanuele, dall'incrocio con via 24 maggio all'incrocio con piazza Scacchi, dalle ore 13 alle ore 21 nei giorni interessati.